Alla fine del Novecento il filosofo e pedagogista americano John Dewey per primo parlò dell'importanza del fare nelle fasi dell'apprendimento. Per Dewey la scuola diventa il luogo della sperimentazione, dei laboratori, dell'apprendere facendo, una scuola fatta di attività che siano sì intellettuali ma anche e soprattutto pratiche, una scuola in cui l'alunno non venga visto come un vaso da riempire di nozioni ma come un soggetto attivamente partecipe al suo processo di crescita e di apprendimento. A distanza di un secolo la teoria dell'imparare facendo risulta ancora quella più in voga, quella a cui il Ministero dell'Istruzione si è affidata quando nei primi anni 2000 si è iniziato a parlare di alternanza scuola-lavoro. Ed oggi quegli istituti che hanno abbracciato a pieno questa strategia possono rendicontare risultati eccellenti. Tra le testimonianze c'è quella dell'Istituto di Istruzione Superiore San Benedetto di Cassino che con i suoi quattro indirizzi ha fatto del Learning by Doing la sua mission. I quattro indirizzi dell'alberghiero, sale e vendita, enogastronomia, pasticceria, accoglienza turistica, preparano in maniera eccellente al mondo del lavoro anche grazie a contatti diretti che l'Istituto stesso ha con le aziende del territorio. Senza dubbio uno dei punti di forza dell'indirizzo alberghiero è l'inserimento nel mondo del lavoro all'interno di un settore trainante dell'economia nazionale, all'interno di comparti strategici dell'economia nazionale e internazionale. Sono i numeri che l'alberghiero di Cassino diffonde a parlare, quelli che raccontano di un tasso di occupazione altissimo tra i neodiplomati dell'Istituto della Città Martire. Una scuola che dà al territorio sicuramente professionalità e che riceve dal territorio perché calibra la propria offerta formativa sulle richieste e le esigenze del territorio stesso. Quindi assolutamente a passo con i tempi in termini di professionalizzazione o digitalizzazione è assolutamente in linea con il mercato del lavoro. Quindi noi abbiamo aziende che ci contattano per avere i nominativi dei diplomati perché la richiesta è veramente tanta rispetto a tutti gli indirizzi presenti all'interno della nostra offerta formativa.